Buongiorno Fagnano, eccoci con il video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo con una serie di informazioni. Le prime riguardano le vaccinazioni anti-influenzale. Come lo scorso anno, la vaccinazione anti-influenzale si effettuerà all'interno della palazzina ATS e inizieranno lunedì 24 ottobre. Ricordo che per accedere alla palazzina ATS per le vaccinazioni anti-influenzale è obbligatorio indossare la mascherina. Le prenotazioni si potranno fare online sul sito istituzionale del Comune o in tre punti differenti del nostro Paese, presso le Acre di Bergoro in piazza San Giovanni, presso il centro CISL di via Seibene e presso il CAF CGL di via Rosmini. Per qualsiasi informazione e per sapere da quando inizieranno le prenotazioni mi invito a seguire la pagina istituzionale del nostro Comune. Settore edilizia privata e urbanistica. Dal 10 ottobre all'8 novembre sono pubblicate con il protocollo numero 752 le nuove mappe catastali. Per fare segnalazioni e rilievi vi consiglio di seguire le istruzioni presenti appunto sul sito istituzionale del Comune in quella sezione. Per quanto riguarda la school card in, di cui ho parlato ampiamente nel video scorso, in questi giorni se andate sul sito internet trovate tutte le istruzioni per accedere a questo bonus. Gli eventi della settimana. Mercoledì 26 ottobre alle ore 21 nell'Aula Magna Benvenuto Piazza, Lampi organizza una serata dal tema storico. È l'occasione per ricordare il centenario della Marcia su Roma. È una serata dal punto di vista storico ed è interpretata dal professor Restelli. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.